Mariucci Acena, sindaco di Caluso, possiamo dire che noi giochiamo in casa. E' certo, è certo. Senti, il fatto che avete dopo tante difficoltà dato la disponibilità del campo è sicuramente un impegno importante anche per l'amministrazione comunale. Sicuramente, noi dispiace molto come amministrazione che l'anno scorso col patto di stabilità non potevamo in nessun modo dare nessun tipo di contributo. Quest'anno, con qualche allentamento del bilancio, sicuramente non potevamo mancare a questo appuntamento. Quindi abbiamo cercato di mettere agibile, ma anche col contributo della società. Perché, ad esempio, su Caluso abbiamo Massimiliano Mastrorino, Annalisa Actis, che si sono adoperati in modo coso, e anche l'assessore Ferrare ci sta dando un aiuto. Ma tutti insieme dobbiamo, questo centro sportivo, farlo di nuovo funzionare benissimo. Non possiamo permetterci di avere una zona così accessibile da tutte le viabilità, perché non dimentichiamo che ce l'abbiamo sull'Achivasso Caluso e a Osta e la Statale 26. Quindi un centro sportivo di questo genere deve, in qualche modo, con lo sforzo delle amministrazioni, ma soprattutto anche col coinvolgimento delle società sportive che sono presenti sul territorio, cercare di farlo funzionare di nuovo. Poi questo torneo, chiaramente, è la sua terza edizione, si chiama Torneo dell'Erbaluce. Noi siamo patria del vino dell'Erbaluce e quindi speriamo di continuare ad averlo sicuramente. Noi come amministrazione, nel limite delle possibilità finanziarie, ma sicuramente l'impegno ce lo mettiamo tutto. Anche perché, inutile ricordarlo, abbiamo un patrimonio sportivo caluso, non c'è solo il campo, la palestra, la piscina, che sicuramente è un fiore all'occhiello e che va valorizzato in tutte le maniere. Ma sicuramente, noi lì abbiamo una piscina coperta, abbiamo un palazzetto dello sport, anche lì ci sono delle grosse problematiche dal punto di vista di efficientamento energetico e quant'altro. Noi in questo periodo proprio stiamo cambiando la caldaia per renderla a normativa, secondo la normativa che c'è attualmente, e anche tutta la parte di illuminazione per far sì che le società, tipo la pallavolo che lo utilizza, ma noi non vogliamo che lo utilizzi solo una società, quel palazzetto. Deve essere utilizzato da tutte le società che sono presenti sul territorio di Caluso. E questo torneo, portando tante squadre importanti italiane, non solo, è anche una bella vetrina per la nostra Caluso. E beh, signori, non ci sono più le aziende a Caluso, noi dobbiamo puntare sul turismo. Abbiamo delle eccellenze che sono l'erbaluce, il passito e anche altre eccellenze. Adesso stiamo arrivando anche alle piccole piantagioni di nocciole. Quindi cerchiamo noi di portare tutte le nostre eccellenze e la vetrina su Caluso deve esserci per forza. Un'ultima battuta, la vetrina migliore sono i calusiesi. Questo senz'altro. Grazie.